Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'ultimo ricordo della sequenza 4, il re è morto. Se vi ricordate eravamo rimasti ad aver pedinato la trousse. Ora dobbiamo capire dove andare e cosa fare. Mmm, nelle foglie. Mi sa che è lì che dobbiamo andare. Assassini in re the truons. Ora entrata, 54 guardie, 5 nascondiglie. Allora, cominciamo ad esaminare le opportunità che abbiamo. Dobbiamo fare degli assassini in volo, cosa che possiamo fare? Oddio, ok, ho assassinato. Ho fatto l'assassino in volo senza neanche volerlo. Allora chiudiamo l'entrata delle foglie così affumichiamo tutto. Bene. Bene. E abbiamo chiuso un'entrata di... sai, una volta, l'ho detto una volta sola. Come ti pare, professore? Pardon. Allora... Chiudiamo anche quest'altra entrata. Sorry. Abbiamo sabotato i camini. Questo li affumicherà. Questo li affumicherà. Vuole combattere. La contendo subito. Allora, assassini in volo li abbiamo fatti giusto per... Ma qua arriveranno... Arriveranno degli... Delle guardie. Non... Non che la cosa ci interessi particolarmente. Parato. Tu invece l'hai ingassato in pieno. Allora. Difendi mendicanti e me lo fai dire così? Allora, aspetta. Eh, lo so. Però, un attimo. Vai all'inferno. Allora. Trova il covo. Che mi urli tu? Allora. Porco due. Vabbè, ragazzi. Non guardate che li butto giù come fuscelli io, eh. Io comunque ho sbloccato una spada, niente male. Allora. Però se non uso l'Occhio dell'Aquila non riesco manco a capire chi sono i nemici. Ok. Ce n'è ancora uno? No. Ehm. Avevo visto una scala. Ehm. Shh. Tara TRA, tara, tara, tra, ta, ciao. Che tempo in mondo? Dovand una? Chiaramente qua bisognava, tipo, nascondersi nel fieno, ammazzarle in silenzio. però io non ho tutto sto tempo e dato che ho le armi adatte me ne vado qua fa una strage vedete ora vi mostro una mezza tecnica solo che questo non viene allora e allora visto che non vieni vengo io da te vedete avanzare in silenzio effettivamente si può bisogna essere rapidi trovato interagisci allora sei in una zona vietata trova il covo il culo abbiamo trovato trova il re desti pacchi il re sapete dov'è bastata che guardate la mappa ragazzi vedete tutto sto labirinto non ci vuole un c'è una strada ben precisa in realtà da seguire che noi alla fine di questa strada troveremo il re no 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 dormi dormite 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 non vi preoccupate non vi dovete preoccupare poco poco di niente allora rara 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 quanti che ne stanno qua uno a due e tre vabbè però una cosa diciamo la raga fate schifo o c'è una scala pare che avevo vista dobbiamo salire allora mo devo capì come devo proseguire io qua a ecco io quasi ho saltato giù per ammazzare tizi ma dovevo andare qua padrone 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 ho saputo da fonte sicura che c'è un assassino qui e che che voi siete il suo bersaglio bastardo ho saputo da fonte sicura la prossima volta che tacchiappo non di risparmio oppure no chiama le guardie dai la caccia a questo assassino voglio la sua testa ah vuoi la mia testa aspetta mo te la porto te la porto di persona eh rimani seduto là ma padrone metà degli uomini sono già dei prossimi vendicanti non ti preoccupare poco poco niente fammi solo capì dove devo andare di qua può essere o di qua sono venuto mi ricordo un accidente ma soprattutto no no non sono venuto di qua ehi salve volete combattere non deve passare io passo ma non è che sto tornando indietro no si si pure due momenti eh non solo uno figuratemi se me ne voglio andare aspettate arrivo io non vi preoccupate allora eccoti si trova qui ah te la sei squagliata bastardone tanto ci rivediamo ehm sendi dobbiamo salire la vedi sta scala porco due sei scemo ok oh stiamo arrivando dal re e in posizione uomini ah capisco volete farmi un agguato voi a me volete farmi un agguato però niente male no 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 tranquillo tranquillo voglio fare l'agguata anch'io shhh non lo raccontate a nessuno calmo di qua ci vede di qua ci vede mister fritz allora tararari rara 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 oddio c'è un cecchino il cecchino non è che mi piaccia molto eh ragazzo mi debita l'occhio dell'aquila perché senza l'occhio dell'aquila non vedo più un cactus allora l'assassino è la il cecchino meglio è la shhh 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 silenzio allora qui c'è la scala il cecchino moglie facciamo una bella sorpresa al cecchino allora interagiamo diavolo ecco una serratura caro il mio re sei rimasto solo tu credo aha eccolo la sorpresa beh questi suoi ricordi metterò le informazioni a servizio dell'ordine lo svolta proprio in pieno stile assassino sta missione questo era una spia in pratica intrighi fra ratti pomposo idiota se gli metto le mani addosso il mio padrone vorrebbe rimediare fratello ah tutto bene signore troppo champagne del re ci va ah eri tu allora ho vendicato della serra e padre della serra è morto gran maestro gran maestro e porco due ora ce n'è un altro che devo trovare non è finita chiaro che no che devo fare di preciso ancora fuggi vabbè la cosa è relativa vabbè ragazzi la missione si può dire finita lasciate un commento un mi piace se avete gradito un suggerimento ma qua non vedo niente perché c'è il fumo insomma fatemi sapere che ne pensate come sempre aspettate non lo so se riusciamo ok no perché non vorrei farlo lunghissimo dato che è bello e che è finito ecco qua sono fuori aspettate forse sono fuori ce l'ho fatta ok fuori dalle fogne benissimo è crollata anche la strada dalla quale sono passato mo ci hanno schiaffato un momento morto ah mo torna da questo gli deve di che ha completato la missione ma giusto in tempo per l'inizio del mio regno il tuo regno finché ci sarà una corte dei miracoli ci sarà un ruade dal momento che il posto era libero eccomi qui e con che velocità il corpo è ancora caldo diciamo che ho tirato i fili giusti in anticipo da quando sei arrivato alla corte dei miracoli mi hai usato hai ucciso il lei quindi hai reciprocato tutto sce che regno hai ereditato è così vero? allora giustizia è fatta hai vendicato i morti ti sei placato in mezzo al marcio marcio dici bene ogni volta che mi sento vicino alla verità ecco che si presenta un nuovo strato di sudiciume oh cospirazione intrigo la trama si infinisce qualche pervertito è un petel ascivo e avrai l'inizio di un grande romanzo preferirei un buon indizio così giovani eppure così seri bene buona fortuna eh vabbè mo mi sa che di eh no dove l'hai preso? me l'ha portato uno dei miei nuovi sudditi in segno di stima credo oggetto curioso c'è un solo argentiere che lavora il metallo così una lama come questa ha ucciso della serra ma immagino che lo sapessi già perché non l'hai detto? dove sarebbe l'uomo se non dovesse mai fare domande se tutto gli venisse offerto su un piatto d'argento